Buongiorno, Moreno Franzin presenta al pubblico di Cotelleria Scintilla questo coltello. Questo coltello è stato realizzato con degli scopi. Abbiamo qui il custom Moreno Franzin che ci descrive questo coltello. Allora, il coltello è realizzato con acciaio Svecker 21, più noto come D2. La finitura è praticamente finita di tempra, quindi con questa colorazione nera ossidata. L'idea era quella di fare un coltello da usare prevalentemente a caccia, con un peso molto ridotto. Infatti il peso del coltello si aggira sui 100 grammi circa. Temperato da me personalmente, quindi con caratteristiche di taglio particolari. Spessore della lama 3 mm, spessore massimo, quindi con capacità di taglio elevate. Manico è una combinazione di micarta, guardia e pomolo, internezzato da rondelle di una gomma particolare che ha praticamente un grip eccezionale. Il tutto è chiuso con una vite in titanio.